12 stanze allestite per l'accoglienza dei pazienti che qui, sottolineano i responsabili, non vengono a morire ma a vivere con dignità gli ultimi giorni della loro esistenza. Nel 2022 sono state 244 le persone prese in cura per una degenza media di 18 giorni, 52 ricoveri dall'inizio di quest'anno. L'ospis, il Nespolo di Airuno, una ricchezza del territorio, strettamente correlato al Dipartimento delle Fragilità, nato 20 anni fa su iniziativa dell'Associazione Fabio Sassi. Lo scorso anno ha ricevuto donazioni per 500.000 euro, 143.000 arrivano dalla 5 per 1000. 18.600 sono stati raccolti grazie all'organizzazione dello spettacolo benefico di Teoteocoli, cifra più che raddoppiata dalla sensibilità della famiglia Crippa di Tecnoprob, che ha staccato un assegno da 20.000 euro, somma che ha consentito di acquistare 12 sistemi anti-decubito da posizionare nelle stanze dell'ospis. È stata una serata che ci ha permesso di farci conoscere a un numero ancora maggiore di persone, anche se devo dire che in questi 20 anni di presenza dell'ospis e 33 dell'associazione siamo decisamente conosciuti nel territorio ed è grazie al territorio che noi stiamo andando avanti. Questi fondi raccolti sono serviti per acquistare dei letti anti-decubito speciali, particolari, altri soldi fortunatamente sono avanzati ma sapete già come spenderli? Sì, non sono letti anti-decubito ma sistemi tecnologici anti-decubito detto in maniera più semplice a materassi che sono molto complicati da usare perché hanno delle pompe all'interno e tutto quanto. Ci sono avanzati soldi, sappiamo già come spenderli ma ogni giorno nascono delle esigenze e sono tutte spese che faremo per migliorare sempre più la qualità del servizio che forniamo ai nostri pazienti. 180 volontari, sembrano tanti, non lo sono, per le esigenze di questa struttura a giorni un corso per creare nuovi volontari. Sono circa 20 volontari al giorno che sono impegnati all'interno e poi tutti gli altri lavori perché dalla manutenzione alla raccolta fondi ai mercatini, poi abbiamo l'assistenza domiciliare, abbiamo l'assistenza ai malati di Villa dei Cedari. Il nuovo corso serve a rinnovare un po' il parco volontari, speriamo di avere anche volontari giovani.